Buonasera a tutti, come vi avevo già anticipato questa mattina nel video di preapertura, mi aspettavo una giornata interlocutoria sui principali mercati europei, oggi erano chiusi sia la borsa americana che il mercato inglese e soprattutto quello che ha stupito in negativo sono i volumi davvero bassi come non si vedevano da diverso tempo e mi riferisco sia ai contratti FIB che al controvalore complessivo scambiato. Prima di iniziare volevo ricordarvi che sabato 8 giugno ci sarà la giornata formativa per investitori neofiti, sabato 15 giugno quella per investitori avanzati, ci sono ancora 4-5 posti liberi per entrambe le sessioni, da domani comincerò a mandare a coloro che si sono prenotati i moduli di adesione. Vediamo però ai mercati, vi condivido subito lo schermo, dobbiamo cominciare necessariamente oggi dal DAX perché comunque abbiamo appunto avuto i mercati azionari americani chiusi e devo dire che per il momento nonostante stia provando a ritornare nella parte alta del range, range che significa massimi storici del 15 di maggio a 18, 8 e 92 rimane però ancora nel trading range tra 18, 4 e 27 e appunto 18, 8 e 92. Stesso discorso vale per il caccarant, segnale sicuramente positivo perché supera la media mobile a 50, 8.106 chiudendo a 8.132 ma al momento il massimo che ci si può attendere è un ritorno a 8.167, 8.221 anche se vediamo qui sotto delle divergenze ribassiste sia su MACD che RSI per cui da domani con nuovamente gli americani aperti avremo sicuramente delle conferme in merito. Anche l'Eurostox fa un movimento simile a quello del DAX e rimane anche qui un trading range tra 4.967 e i massimi del 15 di maggio 5.102. Fa un po' più fatica l'Eurostox banks anche se quella di oggi è una candela inside dal range molto stretto 145.66 di minimo 146.41 di massimo per cui per il momento anche per l'Eurostox banks dovrebbe esserci un trading range compreso tra 114.64 e 147.75. Fuzzimil futures vedete che oggi sta performando molto bene è il mercato europeo più forte potrebbe anche tornare sui massimi di periodo del 20 di maggio 35.245 ma c'è un problema come vi avevo detto che quello legato ai volumi scambati scambiati siamo solo a 8.028 contratti in questo momento che sono davvero pochissimi e anche per quanto riguarda gli scambi complessivi vedete che oggi siamo addirittura scesi a un miliardo 542 milioni e prima delle aste eravamo addirittura solo a un miliardo 238 milioni come sapete vi posso fornire il dato grazie a Renato che me lo invia tra la chiusura del mercato diurno e l'asta finale sorprendenti invece almeno per me i comportamenti di Midcap e Star sorprendente il comportamento di Midcap e Star Midcap addirittura rompe a rialzo il massimo del 20 di maggio e quindi nonostante che qui siamo in divergenza ribassista può puntare al massimo del 15 di maggio 48.600. Fuzzistar non ha rotto il 48.608 ma potrebbe tornare a 48.864 e poi sul massimo del 15 di maggio 49.111. Ovviamente questo movimento non vi nascondo che mi ha sorpreso parecchio. Adesso andiamo a occuparci del Fuzzimib partiamo dai migliori ma poi facciamo anche magari qualche titolo tra i pochi peggiori. Molto bene Saipem probabilmente ha pagato la Dragonfly di venerdì dopo un minimo a 2.237 chiusura a 2.30 oggi chiude sui massimi di giornata a 2.382 a questo punto diventa probabile un ritorno a 2.402 2.421 e poi massimo del 15 di aprile 2.471. Continua il momento positivo di Telecom oggi arriva in maniera chiara a ritestare la media mobile a 100 0.2518 fa addirittura un massimo a 0.2524 poi chiude a 0.2520 diventa interessante vedere se e ci sono possibilità in tal senso riuscisse a tornare sulla media mobile a 200 0.2646. Erg anche qui dopo l'hammer di venerdì minimo 23.66 chiusura 24.36 riesce a ripartire lasciando addirittura un micro gap aperto sul massimo di venerdì a 24.36 la chiusura odierna è sui massimi di giornata 24.84 prossimo obiettivo 25.08 la media mobile a 200 e 25.11 media mobile a 100 25.43 gap da chiudere sul minimo del 17 di maggio 25.6 non si ferma più prismian ancora nuovo massimo storico anche oggi a 61.06 poi chiusura a 60.94 io se vi ricordate settimana scorsa vi avevo detto di portare che sarebbe stato opportuno portare lo stop profit almeno a 58.02 adesso probabilmente lo alzerei già sotto il minimo di venerdì 58.72 comunque non si ferma più come vi ho detto prima Tenaris bene non ancora benissimo perché comunque non riesce a superare la media mobile a 200 che è 15.855 potrebbe riuscirci nelle prossime sedute con primo obiettivo 15.92 e mezzo poi 16.04 micro gap da chiudere a 16.085 e poi media mobile a 116.3 come sapete io continuo a mantenere Tenaris nel mio portafoglio di medio lungo periodo snam rischia di umiliarmi come mi capita comunque abbastanza spesso ma penso di essere l'unico che subisce tutte queste umiliazioni perché in giro non sento mai di operazioni chiuse magari anche in loss come io chiuso seppur modesto in loss snam e tegas e poi i titoli ti ripartono e dopo la seduta di oggi con il netto superamento della media immobile a 50 4.353 snam e tegas potrebbe tornare a 4.43 e mezzo e poi sul massimo del 22 di maggio del 22 di maggio 4.46 anche enel dà una risposta importante venerdì era andata a chiudere il gap lasciato aperto a 6.508 sul massimo del 9 di maggio fa ha fatto una doge con chiusura a 6.556 e oggi bella seduta quasi ma robots wide con chiusura a 6.661 per le prossime sedute potrebbe tornare a 6.701 6.754 iniziare a muoversi sostanzialmente in un trading range compreso tra 6.502 e 6.754 Stellantis non ha ancora rotto completamente però intanto si riprende la media mobile a 200 20.66 a chiusura a 20.85 e mezzo ed è pronta come vi ho detto con target intermedia 21.1 21.31 a ritornare sul massimo del 15 di maggio che è 21.56 nexi nexi bisogna vedere se riesce a far base in area 6 oggi sicuramente da un primo segnale importante perché chiude sui massimi di giornata a 6.19 potrebbe iniziare una fase anche qui di trading range con un obiettivo a rialzo compreso tra 6.334 e 6.38 e 6 scusate Leonardo sembra abbia voglia di rompere area 24 avevamo già visto anche questa mattina su time frame mensile ma riguardiamolo assieme il target di questo movimento è 25 e 15 25 e 17 che sono massimi sul mensile di novembre e dicembre 2020 anche Eni oggi rimbalza piuttosto bene fa una marubozzo white sporca però devo dire che se il rimbalzo dovesse proseguire non credo che anche superando 14.668 possa andare oltre la media mobile a 100 14.778 la media mobile a 200 14.88 e 2 tra i titoli venduti la scorsa settimana oggi da un primo segnale di ripartenza di potenziale rimbalzo italgas deve superare 493 8 per tornare a 504 505 concludo i migliori con a 2 a che io continuo a mantenere il mio portafoglio medio lungo periodo il mio stop ho anche preso ovviamente dividendo è 1 85 4 probabile per le prossime sedute un movimento in trading range tra 1 87 45 e 1 94 e 9 i titoli peggiori non sono a dire il vero a livello di fuzzimi molti abbiamo qualche abbiamo assistito qualche vendita su banca mediolanum che in questo momento sembra voglia ritracciare con un primo obiettivo direi a 10 32 poi c'è la media mobile a 50 che è praticamente 10 31 minimo del 7 di maggio che è 10 e 27 anche se tm sta facendo fatica anche se come vi ho già detto non considero ancora questo movimento foriero di ulteriori ribassi siamo inter di range compreso tra 37,085 e 39 e 73 e dobbiamo soltanto aspettare anche azimut sembra andarsi a cercare nuovi supporti primo obiettivo 24.1 poi 23.75 minimo 19 di aprile eventualmente 23.59 minimo 8 di marzo pirelli 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 è una doji candela inside qui vale per il momento ancora il trading range compreso tra 5 96 e 6 25 e 6 concludo con biper che a mio avviso potrebbe essere a rischio accelerazione a ribasso con primo obiettivo 4 67 2 poi media mobile a 50 4 57 6 minimo 9 di maggio 4 54 e 6 adesso spostiamoci al di fuori del futsimib e andiamo a vedere i migliori vi ho già detto come io manchi regolarmente delle occasioni per certi versi incredibili perché chi mi segue abitualmente saprà che avevo detto con largo anticipo che al di là del fatto che io avevo deciso di non tradare più compagnia dei caraibi finché non veniva risolta la questione elephant gene vedevo comunque il titolo in forte recupero oggi oltre aver fatto una marboz white 1.34 1.62 con un più 22 per cento e volumi anche abbastanza significativi a quasi manca un tic chiuso il gap lasciato aperto sul minimo del primo di marzo 1.62 e mezzo e potrebbe ritornare prima a 1.79 poi a 1.85 massimo dell'otto di febbraio i vision tech i vision tech continua il suo momento magico marboz white 1.63 1.87 e praticamente siamo ormai vicinissimi ai massimi storici dell'ultima settimana di agosto del 2023 a 1.90 c'è stata anche un'alzata di target oggi sui vision tech e potrebbe anche accelerare a rialzo e fare nuovi massimi storici new lat titolo che oggi apre in fortissimo gap up il gap lasciato aperto è stato sul massimo di venerdì a 6.34 volata via la media mobile a 206 52.8 e anche quella a 106,742 massimo in 3 7.14 chiuso a 7.13 e titolo che potrebbe a questo punto ritornare a 7.49 poi a chiudere il gap lasciato aperto sul minimo del 16 febbraio 7.67 ovviamente di fronte a un movimento del genere c'è una spiegazione ed è questo accordo per acquisire princess limited costituendo la più grande azienda alimentare quotata all'eonex di milano con un fatturato consolidato di 2,8 miliardi di euro perché il titolo ha risposto così bene per l'acquisizione di questo storico gruppo alimentare con sede in regno unito perché era uno dei motivi che aveva fatto scendere moltissimo new lat dopo la pubblicazione della trimestrale vorrei però capire mi scuso con voi ma non ho letto altri comunicati perché mi interesserebbe sapere quanto spendono perché new lat comunque ha già del debito però il mercato ha preso benissimo la notizia poi tra i titoli quotati da poco altro movimento molto interessante di paringeo che va a fare nuovi massimi storici a 6.30 con chiusura a 6.14 ma comunque conferma la rottura dei precedenti massimi storici di 5.86 toccati il 19 di aprile Ziniago vetro io non ho trovato altre notizie se non gli internal dealing di Stefano Marzotto e Niccolò Marzotto che hanno comprato sul mercato sia giovedì che venerdì delle azioni Ziniago perché sono ovviamente soggetti rilevanti oggi bellissima Marubozzo White 11.40 12.24 apertura sui minimi chiusura sui massimi di giornata primo obiettivo 12.26 dovrebbe volarlo via già domani chiusura gap sul minimo del 10 di maggio 12.50 media mobile a 50 12.68 SG Company allora SG Company ehm aveva pubblicato se non erro qualche giorno fa dei dati eh decisamente migliorativi eh qua eh il titolo era stato un po eh snobbato adesso finalmente sono entrati eh comunque dei volumi importanti sembra eh voler ritornare almeno sui massimi del 2 di febbraio 0.30 mettiamo anche un time frame settimanale sopra 0.30 c'è un primo obiettivo a 0.308 e poi 0.33 massimo seconda settimana di eh settembre 2023 eh oggi bene anche Ascoleva che sembra voglia ritestare la media mobile a 200 0.34 e 5 poi abbiamo uno 0.36 e mezzo e quindi il massimo di periodo dell'8 di maggio dell'8 di maggio 0.378 eh anche Estrima è stata comprata sembra finalmente aver voglia di togliersi da questa pericolosa area di minimi prossimi obiettivi 0.61 poi media mobile a 100 0.63 3.15 massimo del eh 3 di maggio 0.67 Casta Diva Casta Diva Massimo di 3.75 chiusura 1.71 e 2 obiettivo rimangono i massimi di periodo del 7 di febbraio 1.79 e mezzo Diva ancora massimo di periodo a 3.38 ho lasciato un micro gap aperto a 3.20 il titolo comincia ad essere decisamente molto tirato perché è in forte per comprato però potrebbe ancora arrivare fino direi a 3.44 eventualmente 3.60 oltre non posso escluderlo ma i per comprato diventerebbe veramente molto molto eh forte Karel Karel oggi finalmente rimbalza e sembra eh voglia riportarsi nelle prossime sedute a 18.54 poi media mobile a 50 19.076 massimo del 17 di maggio 19.3 movimenti incredibili su radici soprattutto per quanto riguarda volumi scambiati perché era da tantissimo tempo che non faceva più di 300.000 pezzi in una sola seduta già venerdì va fatto questo incredibile Marbozzo White eh 1.02 1.22 oggi ha fatto un massimo mentre 1.34 chiusura a 1.28 e direi che il primo obiettivo adesso è 1.44 massimo ultima settimana di giugno del 2023 filogen filogen bellissima Marbozzo White 19.35 19.90 e addirittura massimo storico qui quindi titolo assolutamente per il momento da mantenere magari il minimo di oggi 19.35 massimo di venerdì 19.35 mi terrei eh il titolo con uno stop profit però sotto 19.35 finalmente buon rimbalzo da parte di Ariston io continuo a mantenere il titolo dopo aver preso anche il dividendo eh media mobile a 50 5.086 poi abbiamo 5.20 5.25 e mezzo massimo dell'8 di maggio elen elen bella rottura della media mobile a 110.074 chiusura sui massimi di giornata 10.35 prossimi obiettivi 10.69 ehm poi media mobile a 50 11 scusate volevo mettere il cerchio questo questa è la media mobile a eh 50 11.079 poi c'è il gap da chiudere a 11.40 sul minimo del 15 di eh maggio eh io mh ho preso posizione questa mattina in apertura a 10 ehm trawell ecco questo è interessante perché c'è stata eh una una nuova alzata di target da parte di intesa che ha portato eh il prezzo obiettivo a 14 tant'è che oggi trawell ha superato la media mobile a 100 7.976 ha fatto un massimo 8.08 chiusura a 8.04 prossimi obiettivi media mobile a 200 8.15 e 4 poi 8.38 massimo 17 di maggio e poi massimo del 30 di aprile 8.60 eh rimbalza oggi dopo la bb della settimana scorsa we build supera la media mobile a 100 2.13 e 3 fa un massimo 2.19 chiude a 2.16 l'obiettivo adesso diventa la chiusura gap ecco la faccio vedere questa e parliamo di 2.28 e 8 considerate che poi a 2.30 c'è anche la media media mobile a 50 alchemy anzi facciamo scusate acquafil prima acquafil perché oggi bella marbozo white eh apertura sui eh minimi chiusura sui massimi 3,075 eh 3,2 eh media mobile a 50 tra 18.8 media mobile a 100 3,22 massimo del 20 di maggio 3,29 e mezzo eh dicevamo di alchemy alchemy spinning top no ecco mancava la candela infatti dicevo superato la media mobile a 200 9,74 e 6 chiusura 9,88 dopo massimo 9,92 eh obiettivo per le prossime sedute direi 10,55 poi media mobile a 100 10,81 e mezzo aspettate che silenzio che già mi stavano cercando e poi non riesco a fare quello che devo fare dicevamo dopo alchemy dei longhi dei longhi eh bella candela oggi quasi marbozo white superata la media mobile a 50 31.49 massimo intraday 32,16 chiusura 32,04 prossimi obiettivi 32,68 33,02 eventualmente 33,68 massimi di periodo 34 e 42 railway railway eh superata la media mobile a 50 eh 5,13 massimo intraday 5,25 chiusura 5,24 successivi obiettivi 5,30 eh 5,38 massimo di periodo del 10 di maggio 5,46 qui dovremmo essere alla stretta finale per eh la fusione con eh tower eh mar mar superate in una sola seduta la media mobile a 50 11,64 media mobile a 200 11,66 massimo intraday è stato a 11,82 chiusura 11,74 primo obiettivo 12,02 poi abbiamo eh il gap del dividendo ovvero 12 e 36 Alma wave Alma wave bene non era facile però perché è vero che venerdì ha fatto quasi una marbozo wide però candela inside oggi apre direttamente in gap up eh gap lasciato aperto a 4,33 micro 4,348 è livello di media mobile a 200 4,42,6 media mobile a 100 e la chiusura è stata sui massimi a 4,48 quindi al di là di un ritorno sulla media mobile a 50 4,51,3 può tornare prima sul massimo del 7 di maggio 4,60 e poi sul massimo del 6 di maggio 4,83 su Antares devo dire che comincio a essere decisamente soddisfatto perché eh sto continuando a mantenere il titolo e mi sembra possa ancora proseguire fino a 3,32 ma come vi avevo già detto potrebbe anche andare fino a 3,79 questo movimento eh mi raccomando se dovesse ancora ehm aggiornare nuovi massimi di periodo sarebbe opportuno alzare lo stop profit esempio pratico domani eh va a tre eh scusate tre e trenta tre trenta due eh io lo stop me lo alzo a tre ventiquattro e mezzo ecco questo più o meno dovrebbe essere senso perché come sapete ho ancora il titolo nel portafoglio di medio e lungo periodo Sogefi oggi fa un massimo a due novantanove e mezzo appena sotto la media mobile a 50 3,01 primo obiettivo eh 3,10 e poi 3 e 13 massimo alle 24 di aprile eh guardiamo se sta seguendo anche CIR o sta andando un po' per conto suo eh devo dire che CIR rimane titolo da trading range compreso tra 0,54 e i massimi di periodo di 0,58,4 toccati il 18 di aprile Fiera di Milano eh dopo la leggera correzione di breve oggi supera in maniera netta la media mobile a 50 3,78 fu massimo a 3,85 chiusura a 3,84 eh prossimi obiettivi eh 3,96 poi 4 e 10 4 e 11 eh Powersoft eh volumi non eccezionali però titolo che probabilmente vuole tornare prima 17 e 30 e poi sui massimi storici di 17 e 80 ancora ben comprata Danieli soprattutto la risparmio eh nuovo massimo storico a 27,55 chiusura 27 e 40 l'ordinaria comunque fa anche lei un nuovo massimo storico a 37,20 chiusura a 37 eh proseguiamo con l'ottomatica l'ottomatica oggi prova a dare un segnale veramente importante manca poco però è la miglior chiusura da tantissimo tempo nelle prossime sedute oggi chiude a 11,06 potrebbe tornare a 11,13, 11,17, 11,29,6 e poi chiudere il gap questo mi sembra da ABB eh sul minimo 18 di marzo eh 11 e 74 eh Jeffran Jeffran siamo ancora eh in una situazione in cui eh il titolo deve fare un ultimo sforzo per ripartire a rialzo oggi peraltro supera con questa bella Marbozzo White sia la media mobile a 108,23,8 che quella a 200,8,24,8 eh sopra 8,50 c'è una vera e propria autostrada perché potrebbe arrivare anche sui massimi del 3 maggio ovvero 8,98 industria ed enora finalmente una seduta eh di eh potenziale rimbalzo eh in costruzione definiamola così minimo 12,76 chiusura sui massimi giornata 13,24 superamento della media mobile a 50 13,125 primo obiettivo 13,61 poi 13,78 media mobile a 100 13,94 massimo del 18 eh suate del 16 di maggio 14,08 oggi come abbiamo già potuto vedere c'è stata qualche Tiritis sicuramente comprata e tra queste al di fuori del Fuzimib eh dobbiamo sicuramente parlare di Acea fa una bella Marbozzo White 16,54 16,92 eh non lascia nemmeno gap aperti quindi può riportarsi sui massimi di periodo 17,16 rompere a rialzo la vedo un po' più complicata poi continua a essere veramente comprata Lindbergh eh addirittura Lindbergh anche oggi nuovo massimo storico a 4 poi si chiude a 3,80 al limite mi do uno stop profit sotto 3,70 se ho il titolo però comunque è sicuramente eh in una fase oltremodo positiva Digital Bros Digital Bros aveva pubblicato dei dati oggettivamente piuttosto deludenti eh oggi fa una Shooting Star eh massimo 10,1 chiusura 9,81 non deve perdere assolutamente 9,46 minimo di breve periodo per evitare un ritorno sulla media mobile a 100 9,25 media mobile a 50 8,87 equità equità Marbozu White 3,92 4 superamento della media mobile a 50 3,95 primo obiettivo direi adesso 4,08 massimo 17 di maggio poi se non i massimi storici potrebbe tornare a 4,15 voglio fare MFB qui devo dire sono stato fortunato perché non mi sono chiuso semplicemente perché il titolo non ha mai effettuato una chiusura giorniera sotto 3,95 2 adesso sembrerebbe voler andare addettura all'attacco dei massimi di periodo di 4,14 4 se riuscisse a superare questo livello potrebbe arrivare fino direi a 4,49 e mezzo come target di questo movimento vediamo anche l'A l'A anche qui ha fatto un bel hammer venerdì minimo 2,96 chiusura a 3,042 e vale un po' il discorso fatto per la B sembra voler andare a ritestare i massimi quindi periodo di 3,15 8 riuscisse a rompere al rialzo l'obiettivo potrebbe diventare questo massimo su time frame settimanale dell'ultima di marzo del 2022 3,44 e mezzo concludo la lista dei migliori anche se ce ne sarebbero forse altri da fare con San Lorenzo perché dopo la discesa per me è un po' inaspettata sicuramente la Marubozo White di oggi 41,15 42,30 dà un po' di vigore al titolo per cui fino a 43,2 massimo 17 di maggio potrebbe sicuramente tornare sono ovviamente meno i titoli peggiori perché avete visto Midcap e Star ne abbiamo guardati prima come si sono comportati bene con Afi era una speculazione dura e pura oggi perde addirittura la media mobile a 100,023,53 media mobile a 50 0,21,65 minimo del 14 di maggio 0,19,35 quindi gli obiettivi diventano addirittura questi poi iQuality Food iQuality Food aveva avuto un momento abbastanza brillante di recente e adesso sembra venuta meno questa fase positiva oggi perde la media mobile a 50 0,73,65 volumi anche piuttosto interessanti sembra voler tornare prima a 0,67 poi sul minimo dell'11 dicembre 0,64 e mezzo Cairo qui c'è il gap da dividendo vediamo 0,16 quindi è questo il motivo del forte gap down di questa mattina però perde anche la media mobile a 50 2,17 2,18 fa fare un minimo a 2,085 chiusura a 2,105 prossimo obiettivo direi 1,99,2 considerato che ha a 1,99,6 la media mobile a 100 continua il momento molto difficile di trend device e siamo in area vedete di minimi storici per cui adesso rimane il baluardo del minimo di giovedì che è 0,21,5 poi il titolo potrebbe accelerare ancora molto proseguiamo pausa nel rally di Fidia qua però secondo me ci sta oggi Candela Inside il titolo che viene nuovamente respinto dalla media mobile a 200 0,82 e 2 nelle prossime istituzioni potrebbe lavorare un range compreso tra 0,86 e 0,69 e 2 e 2 sempre in difficoltà Osai Osai aveva provato il rimbalzo però rimane ancora fondamentalmente di un ampio tardin range compreso tra 0,96 e 2 e 1 e 21 però non sono totalmente negativo sul titolo per un rimbalzo cioè che non vada a perdere i minimi storici però è sicuramente in grande difficoltà Clabo Clabo non credo abbia ancora trovato una vera e propria base dovrebbe provare a testare 2,19 poi media mobile a 200 2,14 e 3 qui c'è minimo del 9 di febbraio 2 e 12 edes qui siamo ancora in training range direi 0,14 e 4 0,16 e 8 EspertaI venduta qui però sapete che rimane ancora venduta leggermente nulla di che l'incognita della DC da 50 milioni per il momento trading range 1,14 2 1 e 28 poi facciamo ancora Banco Desio e Brianza e qui mi sembra che siamo un po' arrivati per cui primo obiettivo 5,14 poi 5,4 e 98 eventualmente 4,85 minimo del 15 di maggio Unidata oggi rimbalzo millimetrico della media mobile a 103 76 chiusura 3,83 però il titolo potrebbe ritornare fino alla media mobile a 50 3,65 poi minimo del 14 di maggio 3,60 concludo con BFF Bank perché è vero che il titolo ha effettuato un bel rimbalzo dai minimi un bellissimo rimbalzo dai minimi del 10 di maggio di 6,98 però adesso sta facendo un po' fatica e prenderei per buono un training range compreso tra 8,76 e 9,73 perdonatemi se ritorno un attimo sui migliori perché mentalmente ho dimenticato ho ricordato di aver dimenticato Portobello spinning top massimo 7,68 chiusura 7,48 volumi molto buoni in questo caso il titolo potrebbe arrivare a 8,30 massimo spinning top 20 di febbraio media mobile a 208 58,3 poi chiusura cap minimo 19 febbraio 8,80 con questo ho concluso perdonatemi se non sono stato magari brillantissimo ho avuto momenti migliori ma sono tornato nella notte e dalla Liguria sono un po' ancora provato anche se è stato un weekend assolutamente magnifico come mi capita praticamente sempre quando ritorno nel mio amato ponente Ligure auguro una buona serata a tutti e noi ci rivediamo domattina prima dell'apertura del mercato di urna e noi ci rivediamo Grazie.